Gentili telespettatori, buona giornata. Secondo il Partito Democratico l'aumento degli immigrati in arrivo in Italia in maniera irregolare è un'opportunità. Il governo sbaglia a vederla come un'emergenza, anzi è un'opportunità, visto che mancano 500.000 posti di lavoro, loro bisognerebbe essere grati a queste persone che arrivano. Ecco, però mancano veramente 500.000 posti di lavoro? Sì, ma bisogna anche poi capire il perché mancano, le soluzioni e ovviamente credo che loro lo sappiano benissimo quello che vi ho sempre detto, mancano 500.000 posti di lavoro, non si trovano camerieri, cuocchi, lavapiatti, bagnini eccetera eccetera. Perché non si trovano? Perché improvvisamente le persone non vogliono fare più quel lavoro o quei lavori? Non si trovano camerieri perché dicono, eh ma bisogna lavorare il sabato, la domenica, è di sera, non è quella la motivazione. Anche sì, se i giovani di oggi non sono più disposti a fare certi lavori, preferiscono cercarne altri, ma il punto chiave non è quello. Non è quello. Mancano mezzo milione di posti di lavoro perché le retribuzioni non sono più adeguate. Quelle sono retribuzioni da fame, sono retribuzioni da terzo mondo. E quindi non si trovano più persone disposte ad essere sfruttate dall'imprenditore di turno. E allora qual è la soluzione del PD? E arrivano i clandestini e li mandi a fare quei lavori che non vuole farne più nessuno in Italia. Non è che sono lavori che non vogliono fare perché si vergognano, perché tutti vogliono fare il direttore di banca, no. È perché le retribuzioni non permettono neanche di farli. Perché se con quegli stipendi non ci paghi neanche l'affitto, sei costretto a non prenderli neanche in considerazione. Cioè se la retribuzione è così bassa che non ci vivi non puoi neanche valutare di fare quel lavoro, devi per forza cercarne un altro. Quindi la soluzione del PD, visto che c'è spopolamento, mancano 500.000 posti di lavoro, arrivano i clandestini, li regolarizziamo e li mandiamo a lavorare, a fare quei lavori lì, con degli stipendi da fame. Tanto per loro quegli stipendi a loro sembrano alti rispetto a quello che è l'economia e quello che magari guadagnavano nel loro paese. Quindi momentaneamente gli sembreranno alti, prima che si accorgano che realmente neanche loro ci possano vivere, allora intanto li mandiamo a lavorare. Quindi facciamo un'importazione di mano d'opera a basso costo. Cioè è una globalizzazione all'inverso. Al posto che andare a produrre all'estero, che è la globalizzazione più o meno l'effetto principale, per risparmiare sui costi di produzione vai a produrre all'estero. Qui cosa fai? Al posto che produrre all'estero, continui a produrre in Italia, ma fai arrivare delle persone che sottopaghi e così al posto che fare la fabbrica in Tunisia fai venire i tunisini qua. Al posto che fare la fabbrica in Libia fai venire i libici qua a essere sfruttati in Italia. Secondo voi è una cosa intelligente questa? È una cosa molto ipocrita? Voi credete realmente che questi del Partito Democratico non sappiano quello che vi ho appena detto io? Certo che lo sanno. Però loro sono quelli del pace e bene, quelli del facciamo entrare tutti e visto che mancano posti di lavoro li facciamo fare a loro. Beh, loro sono poi quelli, non so se vi ricordate, quei politici, quel paio di politici che non faccio nomi e cognomi, che solo un anno e mezzo fa, due anni fa, di sinistra, di quelli che parlano sempre in televisione, si è poi scoperto che avevano la lavoratrice domestica che sottopagavano, che non gli pagavano il dovuto, che erano magari assunte in nero. Ecco, quindi questi qui che predicano proprio l'arrivo dei clandestini per farli lavorare sottopagati sono proprio quelli che avevano persone che lavoravano per loro in nero, sottopagate. Ecco, quindi sono solo parole, parole al vento di persone che vivono bene e dicono un sacco di fesserie ogni giorno. Pertanto la soluzione del PD, visto che mancano 500.000 lavoratori, facciamo venire questi dall'estero, è una cosa ridicola. Quello che bisogna fare è non far venire persone e sottopagarle. Volete far venire delle persone? Ci sono questo decreto flussi che non è nient'altro che una sanatoria, non sono persone che fai arrivare col lavoro già trovato prima. Sono quelli che sono già in Italia, la sanatoria gli dai i documenti e li fai lavorare, sottopagati ovviamente. La soluzione non è quella, ma è quella di fare un salario minimo e pagare le persone il giusto. Ecco, non dico di strappagarle, ma di pagarle il giusto. Ecco, pagando le persone il giusto, il giusto qual è? Lo stabilisce la legge della domanda e dell'offerta. Quindi pagando le persone il giusto, a questo punto quelle 500.000 posizioni lavorative in Italia verrebbero ricoperte in poco tempo, senza problemi. Solo che la situazione è tutta distorta, il salario minimo non si vuole fare, i sindacati non fanno i sindacati, arrivano 3.000 persone al giorno, il PD dice facciamole lavorare, sottopagate ovviamente. Ecco, è tutta una situazione completamente sballata, non c'è niente di giusto in quello che succede oggi. Le soluzioni non si vogliono trovare? Non si vogliono trovare perché ai politici ci conviene questo per diversi motivi. Alla sinistra conviene continuare a fare quelli pace e amore, alla destra invece la destra vuole vincere in Europa e quindi sta sorvolando su questo problema. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie.